Allora, ritorniamo a noi, vediamo un po' gli eventi, che cosa c'è e poi magari alla fine ripeteremo il discorso della card che è molto interessante perché poi è vicina. Abbiamo visto tante bellezze naturalistiche per tutti i sensi, ma anche la cultura è importante. Poi quando c'è quella mezza giornata di brutto tempo, cosa faccio in montagna? Tanti si chiedono se non vogliono affrontare un po' di piegerellina che fa comunque bene la salute. Si va a vedere i musei, si vanno a vedere tante cose con la card, lo ricorderemo anche dopo. Però vediamo un po' gli eventi, cominciamo dal Pecimbra e poi scendiamo ai laghetti anche. Laghetti, lagotti. Allora, guarda, i eventi quest'estate forse abbiamo il record, ogni anno diciamo ne abbiamo fatti tanti, in realtà quando poi arriviamo alla stazione successiva ne proponiamo ancora di più. Ogni weekend ci sarà un evento a partire proprio dal ponte del 2 di giugno dove abbiamo Recuperando il Tempo, un evento che si svolge a Lavarone, torniamo indietro di cent'anni, quindi protagonista la storia, oltre 300 figuranti in costume che animeranno Forte Belvedere, che animeranno il centro di Lavarone con spettacoli ed eventi e una camminata enogastronomica con il pranzo del soldato. Come si chiama allora questo? Recuperando il Tempo. Poi abbiamo la 100 chilometri dei forti per i nostri amici bikers, le finali nazionali di Miss Mamma che saranno nel weekend del 23-25 di giugno, ma poi appunto il Luzern Jets Festival, il Festival del Gioco, Latte in Festa, veramente ogni weekend un evento diverso che ci accompagnerà fino alla metà di settembre. Ma non solo eventi nel fine settimana, in realtà l'azienda ha predisposto un programma settimanale dove i nostri ospiti ogni giorno potranno trovare qualcosa da fare. Dalle escursioni, trekking o mountain bike che sono incluse nella Trentino Guest Card, a momenti di laboratorio per i bambini, alla visita appunto a quelle che sono le fortezze e base tuono, il centro di documentazione di Luzerna che è aperto tutta l'estate e quest'anno ospita una mostra molto bella che si chiama Dinomiti sulla storia proprio dei minerali e dei fossili nelle nostre montagne. Eventi veramente per tutti i gusti, eventi importanti. Per le persone anziane, perché ce ne sono tante che ci seguono. Sì, per le persone anziane abbiamo innanzitutto un programma settimanale per chi acquista proprio la vacanza dedicata ai senior, quindi dove esiste la vacanza dedicata ai senior, in strutture che hanno sviluppato proprio un'offerta tematizzata, per cui oltre ad accompagnarli durante il giorno a visitare quelle che sono le ricchezze del nostro territorio, utilizzando i mezzi pubblici che abbiamo sul territorio, poi la sera c'è il torneo di Burraco, c'è il ballo liscio, quindi tutte le cose che piacciono da fare anche tutti insieme. Diciamo che per ogni target noi abbiamo predisposto una vacanza, quindi c'è la vacanza family, nelle strutture particolarmente attrezzate per accogliere le famiglie con i bambini, la vacanza bike nei bike hotel. Quest'anno grande importanza anche delle strutture pet friendly, quindi quelle che sono vicine ai nostri amici a quattro zampe, e poi vacanze senior, quindi ad ognuno, ci piace dire che per ognuno è stata studiata una vacanza e per ognuno è disponibile anche una proposta e un'offerta dedicata che i nostri ascoltatori possono trovare sul sito alpecimbra.it nella sezione offerte sicuramente sono in grado di trovare quello che stanno cercando nella struttura che sia residence o che sia hotel che più gli piace, sempre con grande attenzione anche a quella che è la loro disponibilità economica. Bellissimo. Allora invece se uno parte più dal basso e quindi dalla zona dei laghi perché magari vuole soffermarli lì, provi a spostarsi eccetera, cosa può trovare? Anche noi abbiamo tantissimi eventi, tanti sono già partiti adesso con la fine di aprile, l'inizio di maggio. Poi siete vicini e si può fare tutti e due, no? Sì, si può tranquillamente. Dopodiché partiamo con il 2 e il 3 giugno, 3-4 giugno con la birra a corte che è questa manifestazione con tutti i birrifici artigianali. Cos'è, cos'è? Si chiama birra a corte, è una manifestazione che viene organizzata all'interno del castello di Caldonazzo, Castello Corte Trap dove ci sono 15 più o meno birrifici artigianali del Trentino che fanno degustare le birre. E questo è il weekend? Questo è il weekend, è il 2, il 3, il 4 giugno. Perfetto, quindi si può fare il 2 giugno, non va a recuperare il tempo passeggiando e mangiucchiando, poi scende, si deve farsi una bella bevuta di birra nella vostra, quei birrifici. Non so come ne esce da questo weekend. E poi si fa un bel bagno. Una degustazione, esatto, poi si va in spiaggia e si fa un tuffo. Esatto, ma va a bivaccare, prego. Invece per quanto riguarda il lago e per quanto riguarda la bandiera blu, è stata creata dall'anno scorso e viene riproposta anche quest'anno, il 10 di giugno invece è la Notte Blu. È una manifestazione dedicata quindi all'ambiente e ai nostri laghi, sui laghi di Levico e Caldonazzo, dove dalle 14 del pomeriggio fino a tarda notte ci saranno tantissimi eventi su tutte le spiagge dei vari comuni del lago e nei ristoranti della zona. E poi quest'anno comparirà anche una bellissima balena, cioè sarà il ritorno della balena in mezzo al lago. E questa è una sorpresa, vi invitiamo a venire a vedere la Notte Blu e quindi potrete scoprire che cos'è. Di che cosa si tratta. Comunque ricordando che il lago si può andare a nuotare con la temperatura. Si, si può andare a nuotare, è assolutamente un lago tranquillo, le acque sono tranquille, sono calde, ci si può tuffare, ci sono i classici pedalò, è proprio un mare in montagna come dicevo prima. Beh, bellissimo. Ci sono eventi anche al lago tutta l'estate. Ci sono eventi al lago tutta l'estate, poi abbiamo tantissimi festival anche a Levico Terme, abbiamo il festival dei fiori, il festival del mais, il festival del vino, il festival della zucca e la festa della zucca per Ginevalsugana, quindi veramente un calendario di attività molto vario per non dimenticare anche tutte le manifestazioni sportive. Quindi parlavamo prima di e-bike e quindi questa nuova gara che avremo il primo e due luglio. Il circuito nazionale? Esatto, è una manifestazione nuova, è un circuito nazionale con biciclette mountain bike, e-bike. Quindi è nuovo questo circuito nazionale? È un circuito nazionale, sì, è una gara che si svolge in quota, quindi dai 1400 metri in su. Ah, da 1400 in su? Sì, è una gara di enduro, questo tipo di bicicletta, e percorrerà questo anello, ci sono varie gare, ma saranno più o meno 200 km. Però caspita, però l'e-bike avrà dei limiti, puoi utilizzarla sempre, c'è una gara, magari uno fa il furbo? No, quella è proprio una gara e-bike e quindi possono tranquillamente usarla. Ogni tanto capita che su qualche gara si inserisca qualcuno con la e-bike, ma però ci sono le giurie che vedono e non c'è problema. Ma è aperta a tutti? E' comunque una manifestazione della Federazione Ciclistica Italiana. Ma pensa, è bellissimo questo anche per lanciare l'e-bike come iniziativa. Sì, anche perché, ripeto, con l'e-bike puoi raggiungere veramente dei posti che non avresti mai immaginato in alta quota. Se uno non la prova non si rende conto. Non si rende conto, anche perché ci sono biciclette nuove, hanno delle batterie. Delle mountain bike, perché sono mountain bike, non biciclette pesanti, che uno può pensare, sono mountain bike anche elettiche. Diciamo che il mercato dell'e-bike adesso sta veramente sfondando, quindi ci sono e-bike, ci sono city bike elettriche e ognuno può scegliere quello che preferisce. Però ci sono delle batterie che durano anche 80 km, 120 km, quindi puoi tranquillamente farti un'escursione in piena tranquillità senza aver paura di rimanere senza batterie e dover pedalare. Anche l'idea è questa, che magari ci sono gli appassionati, quando abbiamo parlato ancora tempo fa, che penso sia venuto anche un istruttore da noi, abbiamo ricevuto dei rimproveri da parte degli appassionati di mountain bike, dicendo che questo deturpa lo sport, la purezza dello sport, eccetera. Ma io la vedo diversamente, dico, chi è appassionato e ce la fa anche di gambe, si usa la normale mountain bike, fa la scalata, arriva a 2000 metri, tranquillamente, è una grandissima soddisfazione. Però tante volte ci sono le mogli, ci sono quelle persone, gli amici che non potrebbero venire o magari persone che hanno un po' un'età più in là, che invece possono ugualmente tenere botta e reggere anche il confronto facendosi un pochettino aiutare. Quindi può essere il modo per portare anche chi non ci verrebbe. Chiaramente i puristi, come dire, sono un po' quando si parla di i-bike, entrano un po' in crisi. Noi ricordiamo sempre che quando si va in montagna non è come pedalare in pianura, quindi i dislivelli, per quanto poco, sono obbligati. E per chi non ha questo tipo di preparazione, alla fine si riduce a fare 10 chilometri e ad essere sfinito. Invece la bici a pedalata assistita dà veramente la possibilità, io dico al 99% delle persone, perché l'1% sono quelli allenati, di poter praticare questo sport bellissimo anche in quota. E noi per il gentil sesso, quindi per le nostre amiche donne, abbiamo un appuntamento che ritorna a fine luglio, che è la Stronger. Quindi tre giorni dedicati alla mountain bike, con gli istruttori, la scoperta della pedalata assistita, ma anche lo yoga nel bosco, la sauna con il maestro di sauna. E quindi abbiniamo lo sport alla bici anche a quello che è un po', diciamo, prendersi cura di se stesse, il benessere e il mangiare bene. Data? Data fine luglio. Fine luglio, perfetto. E allora, guardate i siti tra l'Alpecimbra e poi il sito di Valsugana, trovate tutte le informazioni di cui vi abbiamo parlato in modo diffuso e dettagliato, trovate le offerte, è un'altra cosa molto importante, le opportunità, le strutture di ricettività, perché come sempre per godere appieno di queste località è bene soggiornare per un po' di tempo, per qualche giorno, un weekend lungo, oppure perché no, farsi la bella settimana estiva, quindi è bene già meditare sulla cosa. Grazie ai nostri esperti e ai nostri interlocutori, grazie a voi di aver partecipato, di averci seguito, come sempre appuntamento domani. Grazie ai nostri esperti e ai nostri esperti e ai nostri esperti. Grazie ai nostri esperti e ai nostri esperti.